Ed ecco qua la partenza della prima serie in metri 600 cadenti, ne sono previste 3, poi si parte con le gare assoluti in metri 800 femminili, quindi con room assolutamente per gli 800 femminili, ovviamente anche per quelli maschili previsti per le 19 viti. Ed ecco qua, ed ecco qua, ed ecco qua, ed ecco qua, 63 davanti a tutti, Giovanni Lazzaro. È buono Simone, è buonissimo. Sì, è buono Simone, è buono Simone. Sì, c'è qualcun altro, vedremo qua il passaggio dal traguardo, e sembra veramente scoppiettante, attenzione. Gran finale, gran finale, gran finale. Giovanni Lazzaro che aveva lanciato la grande la gara, ed è lui, 1-26, quando andrà in personale, oggi provano il mito.